Ricorda Luca, la cosa più importante degli esami di maturità sono le fotocopie. Cartuccera professionale in dotazione marinse dell'esercito americano contenente numero 72 temi miniaturizzati, dico 72. Questi per te sono l'unica salvezza perché se fai bene gli iscritti, pure se gli orali fai scena muta, Martinelli te fa una pippa. Tu mica sei normale, eh? Ma il vero colpo di genio è questo. Adesivo sagomato contenente tutti i teoremi e le formule matematiche del mondo. Ma se non si legge niente. Vabbè perché ora ci ho camminato. Ah, infatti noi gli esami ci andiamo volando. Quanto sei polemico. E insomma, sta Claudia che mi dicevi? Che tipo è? Claudia è... È come un tramonto in barche a vela. È come il gol di Tardeglia alla Germania. È... È come uno sciopero. Quando c'è il compito in classe non hai studiato un cazzo. Aia! Ma che volete che vi interrogo? Eh? Sì. Crudele però, eh? Come se fosse l'esame vero. D'accordo. Crudele. Sì, Santilli, però non troppo, eh? Sennò ci scoraggiamo. Abbiamo... Abbiamo...